José Saramago. Il racconto dell'isola sconosciuta. Parte seconda. Cammina, cammina, l'uomo giunse al porto. Si recò al molo, domandò del capitano e mentre aspettava che arrivasse, cercò di indovinare quale poteva essere fra le tante imbarcazioni che c'erano, quella che sarebbe stata la sua. Grande si sapeva già che non lo era, il biglietto da visita del re era chiarissimo su questo punto. Di conseguenza si potevano escludere i piroscafi, le navi da carico e quelle da guerra. Né d'altro canto poteva essere tanto piccola da non resistere alle forze del vento e alle inclemenze del mare. Anche su questo punto il re era stato categorico. Che navighi bene e sia sicura. Erano state queste le sue parole formali, escludendo così implicitamente le lance, le peluche e le scialuppe, che pur essendo buoni natanti e anche sicuri, a seconda delle condizioni di ciascuno, non erano nate per solcare gli oceani, che è dove si trovano le isole sconosciute. Un po' discosta, celandosi dietro certi bidoni, la donna delle polizie passò in rassegna con gli occhi le imbarcazioni attraccate. Per i miei gusti, quella, pensò. Ma la sua opinione non contava e non era neppure stata ancora assunta, ma prima sentiamo che cosa dirà il capitano del porto. Il capitano arrivò, lesse il biglietto, squadrò l'uomo da capo a piedi e gli rivolse la domanda che il re aveva dimenticato di fare. Sapete navigare? Avete la patente nautica? Al che l'uomo rispose, imparerò in mare. Il capitano disse, non ve lo consiglio, perché io, che pure sono capitano, non mi avventurerei con una barca qualsiasi. Allora datemene una con cui io possa farlo. No, non una di quelle, datemi piuttosto una barca che io rispetti e che possa rispettare me. Questo è parlare da marinaio, ma voi non siete un marinaio. Se parlo come un marinaio, allora è come se lo fossi. Il capitano rilesse il biglietto del re. Poi domandò, potete dirmi il motivo per cui volete la barca? Per andare alla ricerca dell'isola sconosciuta. Isole sconosciute non ce ne sono più. È la stessa cosa che mi ha detto il re. Quel che sa di isole l'ha imparato da me. È strano che voi, uomo di mare, mi diciate questo, che isole sconosciute non ce ne sono più e che io, uomo di terra, non ignori che tutte le isole, anche quelle conosciute, sono sconosciute finché non vi si sbarca. Ma voi, se ho ben capito, andate alla ricerca di una dove non si è mai sbarcato nessuno. Lo saprò quando ci arriverò. Se ci arriverete. Sì, a volte si naufraga strada facendo, ma se mi dovesse capitare dovreste scrivere negli annali del porto quel che è stato il punto in cui sono arrivato. Volete dire che quanto ad arrivare si arriva sempre? Non sareste chi siete se già non lo sapeste? Il capitano del porto disse. Vi darò l'imbarcazione che fa per voi. Qual è? È una barca con una lunga esperienza, ancora del tempo in cui tutti andavano alla ricerca di isole sconosciute. Qual è? Forse ne avete già incontrata qualcuna. Qual è? Quella. Appena la donna delle pulizie capì dove il capitano indicava, uscì correndo da dietro i bidoni e urlò è la mia barca, è la mia barca. Bisogna perdonarle l'insolita rivendicazione di proprietà a tutti i titoli abusiva, semplicemente la barca era quella che le era piaciuta. Sembra una caravella, disse l'uomo. Più o meno, ne convenne il capitano. Un tempo era una caravella, poi ha subito modifiche e adattamenti che l'hanno un po' alterata. Ma sempre una caravella è. Sì, nell'insieme ha conservato il suo vecchio aspetto. E ha alberi e vele. Quando si va a cercare isole sconosciute è la più affidabile. La donna delle pulizie non riuscì a trattenersi. Per me non voglio altro. Chi siete voi? Domandò l'uomo. Non vi ricordate di me? Assolutamente no. Sono la donna delle pulizie. Quali pulizie? Quelle del palazzo del re. Quella che apriva la porta delle petezioni. Non ce n'erano altre. E perché non siete al palazzo del re a pulire e aprire le porte? Perché le porte che desideravo veramente sono già state aperte. E perché da oggi in poi pulirò solo barche. Ah, allora siete decise a venire con me a cercare l'isola sconosciuta. Sono andata via dal palazzo uscendo per la porta delle decisioni. Stando così le cose salite sulla caravella. Vedete un po' com'è. Dopo così tanto tempo avrà bisogno di una bella lavata. E fate attenzione ai gabbiani che non c'è da fidarsi. Non volete venire con me a vedere dall'interno la vostra barca? Avete detto che era vostra? Scusate, è stato solo perché mi piaceva. Piacere è probabilmente il miglior modo di possedere. Possedere deve essere il peggior modo di piacere. Il capitano del porto interruppe la conversazione. Devo consegnare le chiavi al padrone della barca. All'uno o all'altro, decidetevi. Per me fa lo stesso. Le barche hanno la chiave? Domandò l'uomo. Per entrare no, ma dentro ci sono i depositi e le stive e la scrivania del comandante con il diario di bordo. «Si occuperà lei di tutto. Io vado a reclutare l'equipaggio», disse l'uomo e si allontanò. La donna delle pulizie andò nell'ufficio del capitano a ritirare le chiavi. Poi salì sulla barca. A quel punto due cose le furono di aiuto. Lo spazzolone del palazzo e l'avvertimento contro i gabbiani. Non aveva ancora finito di attraversare la passerella che collegava la murata al molo, che già le maledette bestie le si precipitavano addosso stridendo, furiose con il becco spalancato, quasi volessero divorarla. Non sapevano con chi avevano a che fare. La donna delle pulizie posò il secchio, si infilò le chiavi in petto, puntò bene i piedi sulla passerella e facendo vorticare la scopa come fosse uno spadone di tempi remoti, sbaragliò lo stormo assassino. Ma solo quando salì sulla barca, comprese l'ira dei gabbiani, c'erano nidi dappertutto, molti abbandonati, altri ancora con le uova e qualcuno con dei piccoli dal becco spalancato in attesa del cibo. Ebbene sì, ma è meglio se vi trasferite. Una barca che va in cerca dell'isola sconosciuta non può avere questo aspetto. Sembra quasi un pollaio, disse. Buttò a mare i nidi vuoti. Quanto agli altri li lasciò stare. Poi vedremo. Dopo si rimboccò le maniche e si mise a lavare il ponte. Terminato quel duro compito, andò ad aprire la stiva delle vele e procedette a un esame minuzioso dello stato delle cuciture, dopo tanto tempo senza andare per mare e senza sopportare le salutari tensioni del vento. Le vele sono i muscoli delle barche. Basta vedere come si gonfiano quando si sforzano. Ma, e ai muscoli succede proprio questo, se non si tengono in allenamento con regolarità, cedono, si rammolliscono, perdono di tono. E le cuciture sono come il tono delle vele, pensò la donna delle pulizie, contenta di imparare tanto in fretta l'arte della marineria. Trovò alcuni orli sfilacciati, ma si limitò a prenderne nota, visto che per questo lavoro non potevano servire l'ago e il filo con cui un tempo rammendava le calze dei paggi, cioè ancora ieri. Quanto alle altre stive, vide subito che erano vuote. Che quella della polvere da sparo fosse sguarnita, salvo qualche residuo di polvere nera nel fondo, che sulle prime le parve piuttosto cacchetta di topo, non le importò a nulla. In effetti non è scritto da nessuna parte, perlomeno fin dove riesce ad arrivare la sapienza di una donna delle pulizie, che andare in cerca di un'isola sconosciuta debba essere per forza un'impresa di guerra. Però l'ha infastidita in molto l'assoluta mancanza di munizioni per bocca nell'apposita stiva, non tanto per lei, più che abituata al pessimo vitto del palazzo, ma per l'uomo a cui hanno dato questa barca. Tra poco tramonterà il sole e mi comparirà davanti protestando che ha fame. È quanto dicono tutti gli uomini appena entrano in casa, come se fossero soltanto loro ad avere uno stomaco e a soffrire per il bisogno di riempirlo. E se poi si porta presso i marinai per l'equipaggio, che sono dei veri lupi quanto a mangiare, allora non so davvero come ce la caveremo, disse la donna delle pulizie. Non valeva la pena preoccuparsi tanto. Il sole era appena scomparso nell'oceano quando dall'altra parte del mono comparve l'uomo che ora aveva una barca. Teneva un fagotto in mano, ma camminava da solo e a capochino. La donna delle pulizie andò ad aspettarlo sul pontile e prima che potesse aprire bocca per informarsi su come era andato il resto della giornata, lui disse. State tranquilla, ho da mangiare per tutti e due. E i marinai? Domandò lei. Non è avvenuto nessuno, come potete vedere. Ma li avete ingaggiati almeno, insistette lei. Mi hanno detto che di isole sconosciute non ce ne sono più e che anche se ci fossero non hanno nessuna intenzione di lasciare la tranquillità delle loro case e la bella vita delle navi da crociera per imbarcarsi in avventure oceaniche alla ricerca dell'impossibile, come se fossimo ancora al tempo del mare tenebroso. E voi che cosa gli avete risposto? Che il mare è sempre tenebroso. E non gli avete parlato dell'isola sconosciuta? Come avrei potuto parlare di un'isola sconosciuta se non la conosco? Ma siete sicuro che esiste, tanto quanto è tenebroso il mare. In questo momento, visto da qui, con quell'acqua del colore della giada e il cielo tutto infuocato, di tenebroso non ci trovo nulla. È una vostra illusione. Anche le isole a volte sembra che fluttuino sopra le acque, ma non è vero. Che pensate di fare senza equipaggio? Ancora non lo so. Potremmo restare a vivere qui. Io mi offrirei di lavare le barche che entrano nel bacino e voi... e io? Avete di sicuro un mestiere, un'attività, una professione, come si dice adesso. Ce l'ho, ce l'avevo, ce l'avrò, se sarà necessario. Ma voglio trovare l'isola sconosciuta. Voglio sapere chi sono quando ci sarò. Non lo sapete? Se non esci da te stesso, non puoi sapere chi sei. Il filosofo del re, quando non aveva niente da fare, veniva a sedersi accanto a me. Mi guardava a rammendare le calze dei paggi e a volte si metteva a ragionare. Diceva che ogni uomo è un'isola, ma io, siccome la cosa non mi riguardava, visto che sono una donna, non gli davo importanza. Voi che ne pensate? Che bisogna allontanarsi dall'isola per vedere l'isola e che non ci vediamo se non ci allontaniamo da noi. Se non ci allontaniamo da noi stessi, intendete dire? Non è la medesima cosa. L'incendio del cielo si andava smorzando. L'acqua all'improvviso si imporporò. Adesso neanche la donna delle pulizie avrebbe dubitato che il mare fosse davvero tenebroso, perlomeno a certe ore. Disse l'uomo. Lasciamo le filosofie al filosofo del re che lo pagano per questo. Adesso andiamo a mangiare. Ma la donna non era d'accordo. Per prima cosa dovete vedere la vostra barca. La conoscete solo da fuori. Che cosa avete trovato? Ci sono alcuni orli delle vele che hanno bisogno di un rinforzo. Siete scesa nella stiva, avete trovato acqua. Sul fondo. Se ne vede un po' intorno alla zavorra, ma pare che sia normale, anzi fa bene alla barca. Come sapete queste cose? Così. Così come? Come voi quando avete detto al capitano del porto che avreste imparato a navigare in mare? Ancora non siamo in mare. Però siamo già in acqua. Ho sempre avuto l'idea che navigando ci siano soltanto due veri maestri. Uno è il mare e l'altro è la barca. E il cielo? State dimenticando il cielo? Sì, chiaro, il cielo. I venti, le nuvole, il cielo. Sì, il cielo.